Quest'anno per i tifosi del Foggia, niente Pasquetta, Egite fuori porta. Al massimo una scampagnata, tempo permettendo, ma solo dopo che Agnelli e compagni avranno recuperato la gara con l'Empoli, non disputata lunedì scorso per la drammatica scomparsa di Davide Astori e fissata dalla Lega di Serie B alle 12.30 di lunedì 2 aprile, Pasquetta appunto allo Stadio Zaccheria. Le altre 5 partite, sempre dell'ottava di ritorno, saranno disputate in quest'ordine, Vellino Bari, Carpi, Venezia, Parma, Palermo, anche loro il 2 aprile alle 15, alle 17.30 ed infine alle 20.30. Brescia, Intelle, Provercelli, Perugia, i cui tifosi invece potranno senza difficoltà consumare la loro Pasquetta, si giocheranno il giorno seguente, martedì 3 aprile, entrambi alle 18.00. Il Foggia intanto prepara la trasferta di sabato prossimo alle 15 al Curi contro un Perugia in salute, pilotato da Roberto Breda e dal suo vice il foggianissimo Carlo Ricchetti. Una gara della quale parleremo dettagliatamente questa sera nel corso di Sport+, in onda alle ore 21 su Tera Radio R, canale 88 e in streaming su Mitico Channel e su www.terradio.it.